Ricordo che quando ero un bambino, la sera prima di partire per la mia prima vacanza da solo, avevo messo l'apparecchio e mamma non faceva altro che dirmi di sorridere. Quando sono arrivato al centro estivo e mi sono unito agli altri bambini, mi sono dimenticato di tutto e ho pensato solo a correre e giocare. Mi sono divertito così tanto con Giocamondo la mia estate, che ci sono tornato anche la volta dopo, e quella dopo ancora. Durante l'anno, con gli amici conosciuti in vacanza, ci scambiavamo lettere e cartoline e stavamo ore al telefono. Poi, con Giocamondo Stadi, ho iniziato a viaggiare all'estero. Lì mi sono aperto al mondo e alla sua bellezza. E più viaggiavo, più i miei genitori accumulavano sconti. Eravamo entrati nella grande famiglia di Giocamondo Club, con vantaggi per ogni livello. Oggi, da genitore, capisco perché mamma e papà erano contenti. Negli anni le cose sono migliorate. Prima c'erano tutti quei moduli da riempire. Adesso basta un clic per firmare comodamente online. E con l'app posso seguire tutta l'esperienza di mia figlia. Anche io sono cambiato tantissimo. Da piccolo ero timido, ma con Giocamondo ho imparato a buttarmi nella mischia. A divertirmi e a superare tutto. Anche l'imbarazzo di un sorriso imperfetto.